Il giallo perché ha regato il braccio per fermare l'avversario Antonioli incisca un po' sul pallone, Cossu Attenzione che ha azione regolare, Marchetti la palla spiove, attenzione No, 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 attenzione che ci possono fregare E Forte para questa disattenzione di Marchetti, attenzione No, la palla è sull'esterno delle rete, pensavo che Forte avesse smanacciato a destra O guardi nel mirino, si guarda l'azione dal vivo Per curare l'immagine si riempisce nel mirino